Vedi? Cosa hai scelto di interpretare con i fieri? Una canzone che ho cantato niente po' po' di meno che con Ornella Vanoni. Hai capito? Cioè, ha ragione, nelle varie avversità ho avuto anche delle grandissime fortune. È una canzone giusta per le donne, che parla molto del nostro sentire, si chiama Noi, le donne e noi. E la cantiamo. Con questo meraviglioso gruppo! Le donne e noi, insieme ai fieri dal vivo, Nancy Brilli a Bellama! Noi! Le donne e noi, insieme ai fieri del nostro sentire, si chiama Noi, le donne e noi. Cosa ne sai, leggere non puoi, l'angoscia che ho qui, in fondo a me, è facile per te, per chi pensa solo a sé, non curarsi di chi ha intorno, non soffrire per gli altri e non morire. E noi, la donna e noi, a volte angeli lo sai. Ma, che prezzo ha, quanto ci costa, chi è donna sa? Ma, che prezzo ha, quanto ci costa, chi è donna sa? Ma, che prezzo ha, quanto ci costa, chi è donna sa? Ma, che prezzo ha, quanto ci costa, chi è donna sa? Ma, che prezzo ha, quanto ci costa, chi è donna sa? Grazie a tutti! Grazie ragazzi! Nancy Brilli! Grazie! Con i fieri, con Lorenzo Candida, Riccardo, Federico, Leonardo, ma soprattutto gli ingredienti che l'hanno resa popolare, bellezza, charm e talento! Grazie! Una delle più grandi attrici italiane! Uh! Nancy, grazie! Grazie! Grazie di cuore! Grazie veramente! Per questo gesto generoso! Io me lo ricorderò quello che mi hai detto!